Buonasera dal vostro grande capitano Napoli, dal Napoli Club, ricomincio da 3, sempre forza Napoli, io ci metto la faccia, sempre e comunque forza Napoli, pessima prestazione del Napoli che perde, sempre e comunque che perde in casa a 4 a 0, colmina, forse è probabilmente la peggiore prestazione di questo campionato, sempre forza Napoli, sempre e comunque come ho detto all'inizio del video, grossa grossa delusione, più che per la sconfitta, per la prestazione e per il risultato, veramente non c'è niente da fare, sempre forza Napoli, grinta e determinazione, pensiamo alla prossima partita Lecce-Napoli, scusatemi il nervosismo, questo video è così breve, molta amarezza, finisce così, una buona domenica. Continuiamo a sostenere sempre, sempre forza Napoli, comunque alla prossima partita, testa e cuore.